Amici ascoltatori che siate davanti ad uno schermo televisivo dal monitor di un computer vi diamo il benvenuto dagli studi televisivi dell'Europarlamento di Strasburgo dove siamo in compagnia dell'onorevole Lara Comi, un'eurodeputata eletta nelle liste del Popolo delle Libertà, quindi per quanto riguarda l'appartenenza europea, membro del gruppo del Partito Popolare Europeo, un volto notissimo anche per la sua partecipazione a trasmissioni ben più prestigiose di questa, ma noi la ringraziamo per avere accolto il nostro invito, l'onorevole Comi, oltre ad essere una delle parlamentari più attive qui a Strasburgo e anche la più giovane eurodeputata italiana eletta e vorremmo parlare con lei, intanto lei si occupa, l'onorevole Comi, di regolamenti a livello europeo sulla privacy che è un tema molto delicato anche alla luce delle ultime notizie che vengono da oltreoceano. Come siamo? Siamo spiati? Possiamo sentirci al sicuro della nostra riservatezza? Allora iniziamo a tranquillizzare i nostri ascoltatori che non siamo in una versione di Big Brother, quindi la volontà che stiamo portando avanti assieme a 27 Stati membri, perché questo è veramente secondo me il plus che abbiamo quando si crea un regolamento europeo, è quello di armonizzare. Cosa vogliamo fare con questo regolamento? Innanzitutto non è un effetto di grande fratello, anzi quello che noi vogliamo ottenere è una maggior protezione del consumatore e la difficoltà maggiore è quella di trovare sempre un equilibrio tra l'aspetto della privacy e dall'altra parte la libertà che può avere una persona. Faccio un esempio pratico per entrare subito nel vivo. Quando si sottoscrive un'assicurazione dell'auto, che in questo momento vediamo sono anche abbastanza in crescita le spese, bisogna conoscere se uno ha avuto degli incidenti precedenti, se ha avuto anche una storia o un suo curriculum, tra virgolette, in base a questo c'è anche un determinato pagamento, una determinata cifra che viene considerata. Ecco, in alcuni casi questo può essere considerato, permettetemi tra virgolette, una violazione della nostra privacy, perché io potrei anche non voler che l'assicuratore conosca i miei precedenti, in realtà è necessario. Faccio un altro esempio, come può essere per una banca, cioè io sono insolvente. Il bollettino dei protesti, no? Assolutamente, io voglio sapere, se sono un'impresa che sta svolgendo un'attività con Pinco Pallino, voglio sapere se il signor Rossi effettivamente ha avuto dei precedenti positivi o negativi in merito all'assolvenza. E anche questo prevede una sorta di equilibrio per la privacy. Per non parlare poi di social network, perché questo è un tema... E qui vorrei entrare però in merito a un caso specifico, che è quello degli insulti, delle minacce... Il cosiddetto bullismo informato. Esattamente, che oggigiorno sono molto più frequenti. Allora, che cosa noi stiamo cercando di comprendere? Dove sta la linea rossa? Cioè dove noi possiamo conoscere l'identità e mantenere i dati nel momento in cui una persona ci insulta, ci minaccia, insomma, non svolge un'attività di social network, ma effetto invece un'attività sicuramente diversa, con degli scopi diversi. E questo ha permesso di avere anche una grande collaborazione con Facebook, con Twitter, un po' meno, perché è in una fase, diciamo, nuova e innovativa, con Google. Quindi sicuramente queste grandi aziende sono disponibili a un dialogo. Non si creano delle zone franche, come è avvenuto nel caso degli Stati Uniti, anche se l'aspetto è totalmente diverso dal regolamento che noi stiamo affrontando, perché lì si parlava di aspetti di sicurezza. E quindi io sono convinta che anche in Europa, nel momento in cui c'è un problema di sicurezza o di ordine pubblico, la privacy e la libertà di ognuno di noi deve essere ridotta. Non eliminata, ma ridotta. Quindi io non avrei nessun problema a essere controllata maggiormente se questo può consentire un, possiamo dire, miglior ordine pubblico o anche evitare degli attacchi, evitare anche quello che è successo l'11 settembre. Esatto, questo è un po' l'obiettivo che ci poniamo. E l'altro aspetto è anche che il regolamento è uguale in tutti e 27 Stati membri. Quindi se un francese ha dei problemi con un network o comunque ha avuto una violazione di privacy con un'azienda, questo ha una stessa sanzione, quindi ha una stessa procedura in tutti e 27. Permette anche una tutela del consumatore, ma una competitività che viene considerata europea. L'ultimo aspetto è notizia, perché ce ne sono tante altre, ma dobbiamo poi andare in fase di approvazione. Quindi vi do quelle un po' più discusse e quelle in merito alla dimensione dell'azienda, cioè le sanzioni. Una piccola media impresa deve avere una sanzione per violazione di privacy in merito alla dimensione o in merito al network che crea e quindi al, possiamo dire, al numero di contatti che può avere? Ecco, su questo siamo ancora in una fase di discussione. Io ritengo che sia più importante il numero di contatti che la dimensione, perché oggigiorno Silicon Valley ne è un esempio. Possono nascere da due o tre ragazzi, come è iniziato Facebook, quindi essere considerato una micro impresa, ma nella realtà avere un numero di contatti impressionante. Quindi avere una violazione della privacy molto più alta che il fatturato e che la dimensione che ne può avere. È la stessa logica, lo dico da giornalista, per cui una testata giornalistica online è sanzionata più pesantemente di una... Cito l'esempio del blog di Beppe Grillo, ma solo per farci capire, cioè di un blog che è ufficialmente una specie di diario, anche se è seguito da due milioni di persone. È chiaro che bisogna poi guardare concretamente alla portata dell'offensività, non all'autodichiarazione di sé. Ma andiamo avanti, Onorevole Comini, perché il suo lavoro al Parlamento europeo è molto vasto, riguarda più temi. Lei si occupa in particolare di questioni legate all'imprenditoria, alla realtà economica. In questa veste uno degli aspetti che a noi italiani sta particolarmente a cuore è la tutela dell'originalità, del made in, di quel marchio di qualità che dovrebbe contraddistingue i prodotti italiani. Come siamo messi in Europa? È una delle primissime battaglie che ho affrontato, perché vedendo concretamente, quindi nel nord, nel centro e nel sud dell'Italia, poco cambia, perché abbiamo un'attività artigianale di piccole e medie imprese eccezionale da tutelare. E quindi arrivata al Parlamento europeo, come primo regolamento, anche in questo caso, che mi è stato affidato per conto del PPE, era proprio l'etichettatura dei prodotti tessili. Il tessile per noi è un settore importante, oltre che un concetto di moda, di design, anche un aspetto di produzione. Poi io provengo effettivamente da un'area geografica dove parto da Biella fino a raggiungere anche i coloranti per il tessile, fino a poi avere la lana, il cashmere, insomma. Quindi la sentivo particolarmente mia come battaglia, ma anche di tanti italiani. Infatti quello che abbiamo portato avanti, e uscirà proprio a settembre, è questa analisi di impatto. Noi la chiamiamo in questo termine un po' strano, ma vogliamo sapere se realmente la tracciabilità porta dei vantaggi, sapere il made in, modificato però, perché permettetemi, attualmente quello che noi abbiamo come made in Italy avviene solo quando noi, mi scuso se semplifico veramente tanto, però penso che sia utile far comprendere a tutti che l'applicazione ad esempio di un bottone, oppure cucire la manica di una giacca, solamente questo assemblaggio comporta il made in Italy. Quindi può essere che il tessuto, la tintura, quindi tutto può avvenire in Cina, oppure in India, oppure in Germania, ma nella realtà poi è effettuato come made in Italy. E secondo me questa è una truffa, perché il consumatore ha l'immagine che questo made in Italy sia un 100%, in realtà non è così, in realtà è solo un 25% in molti casi. Allora che cosa dobbiamo affrontare? Il concetto della tracciabilità, una tracciabilità che consente al consumatore di conoscere dove viene realizzato, fase per fase, macro aria naturalmente, un capo di abbigliamento, ma nello stesso tempo anche l'alimentare. Perché nelle zone del sud, faccio l'esempio della Sicilia, con il succo d'arancia, le arance rosse di Sicilia, è importante per il consumatore conoscere che quel succo di frutta è 100% made in Italy, prodotto da arance italiane. Spesse volte che cosa succede? Che le arance provengono dalla Corea, dal Marocco e dalla Cina, vengono spremute in Italia, confezionate in Italia, il succo è made in Italy. No! E questo vale anche per la salsa di pomodoro. Abbiamo visto che c'erano dei bellissimi pomodori cinesi. Ecco, su questo io da italiana mi sento di proteggere molto anche la tipicità sia alimentare che dell'abbigliamento di tutti i nostri settori. Io non voglio effettuare una discriminazione rispetto a prodotti cinesi, indiani, coreani. Questo no, però bisogna conoscere. Bisogna sapere che cosa uno anche mangia, permettetemi, o che cosa uno indossa. E allora questa è stata una mia prima battaglia che porterò avanti, anche se tra poco ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento, ma confido che a settembre arriverà questo impact assessment, come noi lo chiamiamo. E se devo rimanere fedele a tutto quello che abbiamo analizzato finora, sia i consumatori che le piccole e medie imprese vogliono assolutamente conoscere. Vogliono assolutamente poter dire io so. Insomma, lo use solely in attesa di discuterne degli emigrati possiamo intanto cominciare ad applicarlo ai prodotti, cioè che una cosa made in Italy sia effettivamente nata qui e non semplicemente, come dire, rappattumata da qualche parte. Penso che questo generi anche un flusso positivo dell'economia, perché molte aziende per una pressione fiscale italiana sicuramente alta, ma anche per una poca tutela dei loro prodotti emigrano, possiamo definirlo. Certo, ne localizzano. Emigrano anche nella vicina Svizzera. Ecco, non dobbiamo andare molto in là come Cina e Giappone. Noi abbiamo verificato che 120 imprese lombarde si sono trasferite nell'ultimo anno in Svizzera. Certo. Concludiamo questa nostra conversazione, onorevole Comi, su un lavoro che lei ha affrontato in precedenza e che, anche se magari non è conosciutissimo dalla nostra opinione pubblica, però in realtà è prezioso per la vita quotidiana dei cittadini, che è il regolamento sugli standard, che significa se dovete fare una cosa, se dovete fare una presa, se dovete fare un attacco di telefonino, lo dovete fare con criteri omologhi in tutta l'Unione. A che punto siamo anche qui? Allora, in Europa si direbbe che questo non è un tema sexy, un dossier sexy, però in realtà è uno dei dossier più importanti e dei regolamenti più importanti. Primo, perché si tratta di un regolamento. Non voglio entrare troppo nel tecnicismo, però... Pasqua che immediatamente esecutiva. Esatto, immediatamente viene applicato nei singoli stati membri, al contrario delle direttive. La direttiva sul ritardo dei pagamenti abbiamo dovuto attendere tre anni affinché potesse diventare legge e ancora oggi siamo un attimo con qualche dubbio e qualche perplessità. Invece, per quanto riguarda quella legata a un regolamento, entra immediatamente, senza modifiche in nessun Stato membro. Che cosa noi abbiamo posto come obiettivi per la standardizzazione? Primo, l'armonizzazione. Noi vogliamo e io mi auguro veramente che le prese di corrente possano essere finalmente europee e che quindi non abbiamo bisogno più di adattatori. Non siamo entrati nello specifico degli standard perché questo compete alle imprese, compete ai consumatori, compete anche agli enti proprio specifici come l'Uni, come tutti gli istituti di normalizzazione. Noi vogliamo che si crei una maggior sinergia tra i portatori di interesse. Vengono sempre definite negativamente le lobby ma in Europa hanno un'attività diversa, hanno una propensione diversa. Per me una lobby è anche il consumatore. L'associazione dei consumatori sono una lobby, portano gli interessi del consumatore. Le lobby delle imprese portano gli interessi delle imprese. E cosa deve fare il legislatore? Cercare di trovare un equilibrio, di trovare quindi una balance, noi come lo definiamo. E che cosa in questo regolamento abbiamo introdotto? Innanzitutto una riduzione dei costi per le piccole e medie imprese. Perché abbiamo notato che le imprese che svolgono ricerca e sviluppo spesse volte sono di piccole dimensioni. E quindi svolgono anche più standard. Perché un banale cellulare, adesso non vorrei far vedere marca né nulla, questo si basa su degli standard. Degli standard di sicurezza, degli standard tecnologici e quindi devono essere anche degli standard armonizzati a livello europeo. Stiamo dialogando molto anche con gli Stati Uniti. La Russia ha adottato, pensato un po' il 50% degli standard europei. Quindi iniziamo avanti perché gli standard europei sono molto alti. Cioè i nostri prodotti, devo essere onesta, sono sicuri. Sono dei prodotti che non hanno, naturalmente possono capitare dei casi di produzione difficile, di produzione con dei difetti, però per un prodotto essere messo nel mercato deve avere anche degli standard di qualità molto molto alti e di sicurezza. e a volte questo ce lo recriminano anche un po'. Però io confido magari nella sensibilità anche delle imprese di avere un prodotto sicuro, come può essere un giocattolo sicuro, come può essere un tessuto che non crei irritazioni, come può essere anche un alimento che abbia determinati standard anche utilizzati. E quindi questo per noi è importante. Abbiamo anche poi affrontato tutto questo regolamento assieme ai consumatori che non erano inseriti all'interno del processo, assieme quindi alle piccole e medie imprese che inizialmente erano un po' sovrastate dalle grandi imprese e poi assieme alla Commissione europea. Perché non è vero che noi misuriamo solamente la dimensione dei cetrioli o il loro diametro, anzi entriamo in aspetti molto concreti che toccano tutti i giorni la vita dei nostri cittadini. Sì, questo esempio fatto dall'onorevole, come non quello dei cetrioli, ma quello degli standard esprime bene la ragione per la quale, a prescindere che siate euroentusiasti, euroscettici o eurorealisti, però conviene interessarsi a ciò che fa l'Europa perché l'Europa fa molte cose che sono destinate ad incidere, la più parte in positivo, qualcuna, anche in negativo sulla vostra vita. L'80% delle leggi italiane sono leggi europee che vengono approvate proprio qua dove ci vedete oggi e poi trasferite in Italia. Quindi io veramente chiedo una maggior sensibilità e un'attenzione all'Europa perché il vostro futuro viene deciso in queste stanze. Benissimo ed è per questo che noi cerchiamo di dare spazio alle attività, al lavoro, ai risultati degli eurodeputati italiani, come ci ha reso contato, se posso usare questo termine questa sera, l'onorevole Lara Comi. L'onorevole Comi che è una europarlamentare del Partito Popolare Europeo per quanto riguarda l'appartenenza italiana a una parlamentare del Popolo delle Libertà ed è anche la più giovane eurodeputata italiana. Un ruolo che ha svolto, come dire, senza, mi pare, far rimpiangere i vecchi. Grazie a Lara Comi per questa intervista che ci ha concesso, grazie soprattutto a voi per averci seguito. Arrivederci.